Sono il nuovo direttore responsabile della testata giornalistica di La CTV, mi chiamo Cristina Iannuzzi, sono e al resto una video reporter che si è formata sulla strada. L'editore Domenico Maduli ha avuto un coraggio straordinario, ha deciso di conferirmi una promozione ed un incarico tanto prestigiosi quanto inattesi e pesanti. Confesso candidamente che non me l'aspettavo, come si dice nei nostri ambienti, sono una di quelle giornaliste abituate a consumarsi le suole delle scarpe, sempre a caccia di notizie. Non ho mai ambito a ruoli dirigenziali o manageriali, sono sempre stata allergica ad ogni forma di potere. L'azienda però ha avuto fiducia in me ed io intendo ripagare questa fiducia dando tutta me stessa con il lavoro quotidiano e con i risultati. Non sarò sola, avrò come punto di riferimento un pilastro di questa azienda, Maria Grazia Falduto, il mio, il nostro direttore editoriale. E ad affiancarmi nel lavoro quotidiano ci sarà Pietro Comito, condirettore di una testata che ha già diretto in due fasi delicate di questa emittente con dedizione, serietà e risultati. E soprattutto avrò al mio fianco una magnifica squadra di giornalisti, di amici con cui ho condiviso in tutti questi anni le fatiche quotidiane e spero soprattutto di avere al mio fianco voi. Vi prometto di restare anche da direttore responsabile la giornalista, la Cristina Iannuzzi di sempre, la videoreporter sempre a caccia di notizie e che racconta le vostre emozioni. Che altro aggiungere? Grazie.